Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panzerotti broccoli acciughe. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 0, semola, lievito di birra fresco, zucchero, sale, acqua e olio. Per il ripieno, scamorza, broccoli sbollentati in acqua salata e acciughe sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola, la farina, il sale, e l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti in modalità sfiga. L'impasto è pronto. Formare dei panetti da 100 grammi ciascuno. Lasciargli evitare per 30 minuti coperti con un canovaccio. Nel frattempo, tritare il formaggio senza lavare il boccale. Mettere la scamorza e tritare per 3 secondi a velocità 7. Mettere da parte. Trascorso il tempo, i panetti sono ben lievitati, adesso stendiamoli uno per volta. Mettere l'accioga. Mettere da parte. I broccoli. Mettere da parte. Mettere da parte. Mettere da parte. ritagliare con una rondella la pasta in eccesso e chiudere con i rebbi di una forchetta e proseguire così per tutto il resto degli ingredienti friggere in abbondante olio caldo panzerotti, broccoli e acciughe grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti